Cercheremo di capire meglio questa decisione, noi porremo una questione, una questione non irrilevante, che chiediamo la redistribuzione delle vegne olimpiche, significa che le discipline olimpiche che oggi sono in maniera molto schematica e solida distribuite tra l'area dolomitica e la Lombardia, ovvero tra il comune di Milano e l'area delle Alpi Lombarde e la nostra area, deve essere assolutamente redisegnata, non è un tabù, visto che accade un po' in tutte le Olimpiadi, che fino all'ultimo istante la certezza di dove si svolgeranno le gare non c'è, e quindi noi chiediamo, qualora il Bob non ci fosse più, di ridisegnare la distribuzione delle gare.